Vorrei concludere così, a proposito proprio di coloro che ci sono vicini, che è il tema fondamentale di questa giornata. C'è una battuta che ho letto su internet in questi giorni di un giovane che ha scritto, sto facendo il mio ritiro, sto a casa insieme con i miei, con i miei parenti più stretti e devo dire che sono brave persone. Tante volte va a finire che davvero proprio le persone che ci appartengono, i nostri genitori, ce li godiamo così poco, i nostri fratelli, le persone che ci appartengono e non è semplicemente un'appartenenza nel sangue, è qualcosa di più, perché il Signore stesso che ce li ha messi accanto sa il motivo fondamentale. Nessuno di noi ha scelto un figlio, una mamma, una sorella, un fratello. C'è un motivo profondo. Ecco, questa potremmo dire convivenza un po' più forzata delle altre ci dia la possibilità in questi giorni di cogliere la bellezza, anzi la sacralità che il Signore ha posto nel cuore di ciascuno, perché in quella presenza forse, anzi certamente, c'è la grazia più grande che il Signore ha fatto nella nostra vita.